Piero, sai che giorni è oggi? Meno sette? Oggi cos'è? Oggi giovedì? Venerdì? Lunedì? Martedì? Mercoledì? Mercoledì notte? Giovedì mattina prestissimo? Giovedì fino alle nove e mezza? Scusa, perché non hai nominato sabato e domenica? Vorresti riposarti? Hai ragione, se me l'aprite... Non è cinque. Ciao. Ciao. Ecco, proprio... Sto state renderizzando? No. No? Stiamo aspettando che il reparto di animazione, senza fretta, ci mandi le animazioni pro. Senza fretta perché non mancano. C'è tutto il tempo del mondo. Perché c'è gente che sta facendo cose e gente che non sta facendo niente in questa settimana a scuola? Eh, perché siamo un po' scarici. Noi abbiamo lavorato più adesso mentre altri sono stati fuori. Giusto, giusto. Rob, cosa hai da dire a quelli di render che dicono che gli mancano le animazioni quindi non possono renderizzare per colpa del reparto di animazione? Ma noi siamo bravi, ci stiamo impegnando, ci stiamo facendo. Stiamo cercando di fixare qualche bug con tanta difficoltà. Questi sono quelli che ci sono arrivati dalla prima giornata di playtest. E quanti ne hai fixati fino ad ora? Ce n'è uno in to be tested. Due in progress. Quindi tipo nessuno. Questa parte la taglio, ok. Stiamo facendo tutte le combinazioni possibili in matinali. Ci mancano alcune, però diamo un po' un po' un po'. Oh, le avete fatti quasi tutti quindi. Quasi tutti. Ma quanti elementi ci sono in totale che puoi comporre? 201. Mega spoiler della tesi, mega spoiler della tesi, mega spoiler della tesi. Sono mostriciato dei passati. Oh, comunque siamo arrivati all'ultima settimana. Questo è il reparto di compositing. L'ultimo per l'ultimo per l'ultimo. 34. No, no. Facciamo questo giochino l'ultima volta. Cosa state facendo? Allora, stiamo compositando le scene che stanno arrivando dal reparto di render. Andiamo a tutto. Lo sbattiamo in un calderone. Un po' di cola, un po' di levette, così così. Ed esce quello finito. Quindi è tutto nelle mani di animazione. Ora sì. Forza render. E poi i compositing. Mancano solo sette giorni. Non dirle. No. Sei triste? Eh, un po' sì. Eh, perché finisci tu. Ti ho detto, ho fatto un sacco di amicizie, quindi evidentemente sentirebbe la loro manca. Considero come la mia seconda casa, la big rock. Mi piace. La mia seconda famiglia. È vero, guarda. Sono loro. Guarda, Giorgia ha annuito, ho visto da qua. Sì, questo è vero. Non ci sta bene. Non è che sono super concentrata, ma non sto capendo niente. Sei sicura? Tra l'altro. Mi sento assolutamente. In questo momento. Sto giocando a un gioco creato da me. Liberamente, tanto non è che ti mira su qualche vlog. No. Assolutamente no. Chi è Mancino? Ok, poi con la destra, resto con la sinistra. Non riprendere il suo momento di palo, te li prego. Allora, stiamo pronti. Praticamente l'insegnante ci dà un tema, un aggettivo. Stiamo programmando Arkanoid. E la frase, quello vicino fa sempre le cose più fighe. E lui? Ti piace Zebrus da 1 a 10? No. Tipo sì, no? Ma perché hai un'incredibile capacità di arrivare solo con lo cazzetto. Non si può. Le hai fatte alla pia. Ma siete sicuri di se finisce? Assolutamente, io sì. È la più bella l'euro qui in avanti. La forma di una donna mi è uscito un po'. No, hai vinto la stretta VIP. Questo è possibile. Il fatto che siamo riusciti effettivamente a programmare qualcosa. Io che non sapevo nulla. Direi che attesta il fatto che ha funzionato questo corso.